ciao a tutti ragazzi benvenuti sul canale Zabbayona03 ragazzi oggi siamo qui finalmente con un nuovo video ragazzi oggi siamo qui alla mostra dei videogiochi al Vigamus da Roma viene con me così ve lo faccio vedere ok ragazzi ci siamo allora la mostra è divisa praticamente in due e questa è la parte storica insomma del museo e poi c'è una parte interattiva tutta la parte che vedete dietro di me perché non ve l'ho fatta praticamente vedere questi ragazzi ci sono guardate che roba questi sono i pad della plan xbox appena li ho ripresi in mano che hanno fatto davvero una sensazione hyper strana perché non mi so più abituato con questi joypad perché avendo mola play mi sono abituato con gli analogici messi vicini quindi insomma vabbè poi c'è questo questa parte qui in pratica ok e qui cominciato tutta la parte della playstation quindi playstation 2 con il pad qui playstation 3 qua ragazzi ci sono altre postazioni sono di xbox quanto pare vedete ma per farla breve c'erano più di 50 postazioni mi sembra comunque c'erano davvero tante tante postazioni e niente c'erano anche la postazione dove c'è una stanza dove si può provare solo il visore e questo allora ragazzi allora niente la cosa che vi dico è questa che sicuramente vi consiglio di dirci perché vi divertirete tantissimo come mi sono divertito io ho provato l'oculus l'ultimo non quello per la playstation ma comunque mi sono divertito vi ricordo di iscrivervi al canale attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video che uscirà poi sul canale e noi ci ribecciamo con un prossimo video sul canale ciao ragazzi ciao 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 ciao